Buongiorno Buongiorno e ben ritrovati a Di Prima Mattina, martedì 23 gennaio, in onda con la nostra rassegna stampa quotidiana per i titoli principali, le notizie più importanti pubblicate oggi sui quotidiani in edicola per quanto riguarda il nostro territorio, l'Abruzzo e anche uno sguardo in apertura all'attualità, gli aggiornamenti dai siti di informazione nazionali. Un buongiorno anche da parte di Gianluca Jezzoni che lavora dietro le telecamere in regia e partiamo subito quindi con gli ultimissimi aggiornamenti. L'attualità nelle notizie dei siti di informazione, dei giornali quotidiani, delle testate nazionali sono incentrate sull'addio, sulla scomparsa di Gigi Riva, notizia che è arrivata ieri sera all'ora dei principali telegiornali della sera. Vediamo subito ad esempio il tributo della prima pagina del messaggero con la grande foto del mitico attaccante Gigi Riva, attaccante in questo caso ritratto in maglia azzurra, ciao rombo di tuono è il titolo del messaggero, calcio in lutto con le date di nascita e morte 1944-2024 di Gigi Riva che non aveva ancora compiuto 80 anni, eroe dello scudetto del Cagliari nel 1970, il re dei bombe azzurri tuttora infatti detiene il record di gol segnati in nazionale. Ci sono tantissimi ricordi, tante pagine di racconti, di approfondimenti, di ritratto di questo grande campione che è stato anche un grande uomo, soprattutto si è caratterizzato per la grande riservatezza con cui ha condotto la sua vita, poi anche nei ranghi della federazione italiana gioco calcio. Il ricordo di Gigi Riva campeggia, lo vediamo subito anche sull'home page di TGcom24, ad esempio, è solo un esempio dei siti nazionali che aprono e danno tantissimo spazio alla scomparsa del campione. Calcio in lutto, addio al mito Gigi Riva, aveva 79 anni, resta ancora suo il record di gol con la nazionale, come dicevamo, tante foto di ieri e di oggi, tanti articoli che ricordano il campione e l'uomo con le testimonianze di chi ha giocato con lui, dei tifosi, dei vertici del calcio italiano. Poi tra le altre notizie di attualità c'è l'intervista che la Premier Giorgia Meloni ha concesso e che è stata ripresa, anche viene ripresa da molti quotidiani. Tra le tante cose, tra i tanti argomenti, dice la Meloni, super bonus, la più grande truffa della storia allo Stato, continua dunque la critica, la forte critica dell'attuale maggioranza di centrodestra alla misura introdotta dal governo Conte, poi ancora privatizzazioni per 20 miliardi in tre anni, quanto annunciato dalla Meloni. Lasciamo da parte per il momento i siti e l'attualità nazionale, torniamo sui quotidiani e andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani locali. Ripartiamo dal messaggero con l'edizione regionale. La cronaca, cronaca e politica in primo piano, innanzitutto la cronaca, ride nella gioielleria del corso, siamo a Pescara, fallisce la rapina in pieno centro, nel negozio venne ucciso, tanti anni fa, nel 1990, Antonio Lofeudo con luttazione tra il bandito e la commessa, l'uomo fermato dopo un lungo inseguimento, l'episodio è accaduto domenica pomeriggio a Pescara, protagonista un 35enne. Poi nella foto taglio centrale, a centro pagina, il lutto d'Avezzano, papà di due bimbe muore alla festa di compleanno, la vittima Agostino Damia stroncato da malore, grande cordoglio e dolore nella comunità avezzanese. Poi per quanto riguarda la politica, in primo piano l'annuncio e la presentazione ufficiale della candidatura di Carlo Costantini al sindaco di Pescara, Costantini ha detto cambieremo Pescara, questo è il suo auspicio, il suo annuncio, le sue prime parole da candidato sindaco, voto per il nuovo sindaco, appunto il centro-sinistra, insieme anche al Movimento 5 Stelle, sceglie il leader di azione, viene qui chiarita quindi la composizione, il momento della coalizione che sostiene Costantini, aperta ancora ad ulteriori aggiornamenti ed ingressi. Proseguiamo con altri titoli, sempre dalla prima pagina del messaggero, intanto in questo richiamo, sempre a centro pagina sulla destra, a Silvi investita la madre di una poliziotta, decesso in nottata, l'incidente è avvenuto ieri mattina poco prima delle 10 a Silvi Marina, la donna, un 82enne, è stata investita in via Rigo Rossi, poi il trasferimento urgente all'ospedale Mazzini di Teramo e dopo qualche ora il sopraggiunto decesso. Per quanto riguarda l'economia autoecologica, il CEO, se preferite in inglese, è Tavares, in visita oggi alla Stellantis, lo stabilimento della Val di Sangro, alle prese con la transizione dei veicoli commerciali, quindi il numero 1 di Stellantis, oggi sarà in Abruzzo, allo stabilimento Ex Sevel di Atessa. Questa è la prima pagina del messaggero edizione Abruzzo, ci spostiamo subito adesso sul centro, partiamo dall'edizione di Teramo perché qui l'apertura è dedicata alla svolta che è arrivata ieri in giornata riguardo alle elezioni comunali di Atri dello scorso anno. Il titolo d'apertura è questo, Atri, annullate le elezioni comunali. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dell'opposizione. Si tornerà al voto, ovviamente la notizia è di quelle importanti, è subito diffusa, ce ne siamo occupati ieri sera nella seconda edizione del nostro telegiornale G News con un servizio che adesso vi riproponiamo, nel quale abbiamo ascoltato. Il parere del commento del Consigliere Comunale di Opposizione Gianmarco Marcone, ascoltiamo. Il Consiglio di Stato ha annullato l'esito delle elezioni del maggio 2023 ad Atri. L'organo di appello della giustizia amministrativa ha accolto l'impugnativa presentata dalla lista uscita sconfitta, per un pugno di voti, dalla tornata elettorale. Si dovrà tornare al voto nel prossimo mese di giugno. Finalmente è stata ripristinata la legalità, ha detto il Consigliere Comunale di Minoranza Gianmarco Marcone. L'abbiamo accolta con grande favore, con grande entusiasmo, con grande gioia. Per certi aspetti era inaspettata questa sentenza. Siamo contenti non tanto perché c'è stato l'accoglimento del ricorso, quanto piuttosto per il fatto che finalmente in questo paese è stata ripristinata la verità dei fatti. Ovviamente ci riserviamo di leggere le motivazioni della sentenza e all'esito della lettura di fare una conferenza stampa proprio per riflettere insieme a tutta la cittadinanza e non solo rispetto a quello che occorrerà fare nei prossimi mesi. Il sindaco Ferretti era stato confermato alla guida della cittadina ducale per appena 11 voti di vantaggio e la lista guidata da Alfonso Prosperi aveva contestato l'esito e avanzato un ricorso al TAR che era stato rigettato. Ora però il Consiglio di Stato ha rimescolato tutto. Mi sento di esprimere un vivo sentimento di gratitudine nei confronti non soltanto di Gabriella Liberatore che insieme a me è l'unica consigliera comunale in carica ad aver firmato il ricorso ma anche e soprattutto nei confronti degli altri firmatari del ricorso che sono Alessandro Demetrio e Antonelli Innamorati come candidati consiglieri non eletti e Gianluigi Antonelli e Livio Nespoli come liberi cittadini. Per quanto mi riguarda ovviamente mi coltivo questa mia candidatura al Consiglio regionale per le prossime elezioni del 10 marzo e per quanto riguarda il futuro ovviamente adesso dovremo un attimino riflettere tutti insieme e ragionare su quelli che saranno gli sviluppi futuri. Ovviamente noi continueremo a seguire questi sviluppi futuri per capire appunto quando si tornerà soprattutto al voto nella città di Atri oltre a cercare di fornirvi anche le reazioni dell'attuale sindaco in carica Ferretti, Pier Giorgio Ferretti. Proseguiamo con la prima pagina del centro, sempre l'edizione di Teramo, a centro pagina la marcia degli agricoltori, vedete la foto, protesta anche nella notte a pescare alla mobilitazione con i trattori, il carro gasolio dicono ci fa fallire, è una protesta che è partita dalla Germania e si sta estendendo a tutta l'Europa. La cronaca come dicevamo prima invece ci porta a Silvi, muore investita sul lungomare, la vittima aveva 82 anni, travolta da una vettura in prossimità delle strisce pedonali. Andiamo nel taglio basso perché abbiamo detto della scomparsa di Gigi Riva ma ieri c'è stato un altro lutto a livello nazionale, in questo caso perché è stato ricordato anche per i suoi ruoli importanti a livello nazionale nella federazione di ginnastica artistica, parliamo del professor Walter Di Mattia, scomparso ieri a Teramo ad 86 anni, morto lo storico tecnico degli azzurri dell'artistica, fondatore della palestra di Mattia, di società sportive in città e capostipite di una famiglia impegnata e dedicata al mondo della ginnastica. Nel taglio basso a Giulianova si parla di politica in vista delle elezioni amministrative, i 5 Stelle dicono al PD no al patto elettorale con il passato, apertura quindi ad un ragionamento di coalizione ma senza protagonisti che vengono dal passato appunto del centro-sinistra. In poi a Roseto il report dei vigili, multe record, 8532 sanzioni in un anno. Possiamo andare avanti e dalla prima pagina del centro di Teramo ci spostiamo a quella di Pescara, ricorderete l'assalto al portavalori sull'A14, grande paura in quell'occasione, il titolo è proprio dedicato a questo tema, a questo episodio, ci sono 12 indagati, il colpo con la sparatoria lungo l'autostrada sotto accusa foggiani e basisti locali. Ritroviamo titoli già incontrati, adesso vogliamo anche però, ovviamente ci sono le parole di Costantini da candidato sindaco del centro-sinistra a Pescara che dice ecco la mia idea di città l'ha illustrata ieri in conferenza stampa, tra l'altro tra poco lo andremo proprio a sentire, segnalo intanto qui di spalla il racconto di un ladro che fu scoperto mentre tentava di svaliggiare delle case a casa l'incontrata in provincia di Chieti, fu inseguito dai cittadini e lui denuncia adesso, i cittadini mi hanno sparato con il fucile, lui fu costretto a buttarsi in un dirupo, lì fu poi soccorso e salvato ma ecco oggi sporge questa denuncia, c'è un'inchiesta da parte dei carabinieri. Nel taglio alto invece questo dato, una professione in crisi, parliamo dell'avvocato, soltanto in 148 in Abruzzo all'esame per diventare appunto avvocato, sempre meno attrattiva appunto la professione forense, l'attività forense nella nostra regione. Nel taglio basso invece c'è spazio per il calcio, il mercato in casa Pescara, spunta la pista Asensio, il delfino a caccia dell'attaccante e Cuppone potrebbe salutare. Ora ci spostiamo invece sulla prima pagina del centro di Chieti, qui l'attenzione è rivolta al destino della municipalizzata teatro e servizi. Oggi l'udienza decisiva, il comune insiste per il salvataggio ma resta il rischio del fallimento. Tra gli altri titoli, sempre dal capoluogo teatino, il comune annuncia la mensa da febbraio, la mensa scolastica, l'assessore competente assicura ufficio e lavoro per ripristinare il servizio, le domande scadono giovedì. Certo ormai siamo già nella seconda parte dell'anno scolastico e questa grave situazione a Chieti ancora non si è risolta. A Lanciano invece c'è una nuova presidente donna al vertice della fiera, è l'agronoma Ombretta Mercurio scelta dal sindaco Paolini dopo le dimissioni di Di Campli e Di Fonzo. da Ortona, mini crociere dal porto nel periodo da marzo a novembre e infine per quanto riguarda il calcio, serie di Chieti in crisi faccia a faccia tra squadra e società. Chiudiamo con le prime pagine del centro andando su quella dell'Aquila. Il titolo è dedicato alla nuova piazza Palazzo, la piazza del comune, appunto all'Aquila, l'Aquila che rinasce, ha approvato il progetto esecutivo da 1 milione e 600 mila euro, i dettagli illustrati nelle pagine interne del quotidiano. Sulla prima pagina del centro trova spazio anche la notizia che abbiamo visto prima sul messaggero. Muore durante una cena con gli amici ad Avezzano, addio al 48enne Agostino Damia, storico volontario della protezione civile. Ed infine per quanto riguarda lo sport europeo di ciclismo all'Aquila, accordo sull'edizione del 2029, sarà il ventesimo anniversario del sisma, attesi 850 atleti di 40 nazioni. Ed è tutto per quanto riguarda il centro, questo rapido sguardo alle prime pagine. Torniamo adesso al quotidiano Il Messaggero, sfogliando le pagine interne. Partiamo da quella regionale dedicata agli adempimenti, all'avvicinamento, al voto appunto per il rinnovo del Consiglio regionale, il voto del 10 marzo. Liste quasi pronte, via al conto alla rovescia. La sfida, lo sapete, tra il governatore uscente Marco Marsilio, Fratelli d'Italia, centrodestra e lo sfidante Luciano D'Amico, patto per l'Abruzzo, centrosinistra più Movimento 5 Stelle. La presentazione delle liste dovrà essere effettuata entro il 10 febbraio. Ci sposiamo subito a Pescara ed ecco invece da una elezione all'altra, parliamo delle amministrative. Anche Carlo Costantini nella corsa al sindaco pensando a Nuova Pescara. Tre anni più cinque alla guida della città, l'obiettivo del candidato del centrosinistra. Partecipazione è la parola chiave. Investitura con abbraccio da D'Alfonso che ha partecipato appunto ieri alla conferenza stampa del candidato sindaco Costantini, espressione di azione. Ovviamente c'erano anche le telecamere di Super J con Ferruccio Benvenuti. Allora vi riproponiamo il servizio per dati in onda del nostro telegiornale. E' ufficiale Carlo Costantini il candidato sindaco di Pescara per i partiti del centrosinistra. Quasi tutti, Movimento 5 Stelle, Associazioni, Comitati e Società Civile che si stanno organizzando in liste civiche. La presentazione è questa mattina in sala consigliare del Comune di Pescara. Il momento è giusto, sono già molti mesi che lavoriamo a questo progetto, ci siamo venuti in tantissime occasioni, ci siamo confrontati, abbiamo sviluppato idee dal mio punto di vista davvero innovative. Poi soprattutto abbiamo la consapevolezza della necessità di intervenire per far rinascere Pescara. Rinascere Pescara vuol dire creare le condizioni perché le situazioni drammatiche di dolore che si sono consumate in questi anni con Viale Marconi, con il taglio degli alberi, con la sparizione dei parchi, con il ferro di cavallo che scompare per poi ricomparire, con la strada parco, con la dislocazione, il trasferimento dei mercati, sono comportamenti che io definisco violenti perché i comportamenti calati dall'alto che toccano negativamente la vita delle persone e delle imprese dal mio punto di vista sono violenti. Noi tutto questo non lo consentiremo più e inseriremo in tutti i processi decisionali un momento partecipativo che non ci sottrarrà dalla responsabilità della decisione perché le decisioni le prenderemo ma le prenderemo solo dopo aver studiato, approfondito e compreso fino in fondo che cosa accade rispetto alla decisione presa sul sistema produttivo, sul mondo delle imprese, sulle famiglie, sui bambini, sugli anziani, valuteremo tutto. Saremo molto più prudenti e molto meno innamorati del desiderio di imporre il nostro punto di vista. Alla presentazione intervenuti anche i leader del PD, Luciano D'Alfonso e Azione, Giulio Cesare Sottanelli, occasione per ribadire che il campo aperto annunciato ormai due mesi fa resterà tale fino alla prossima primavera. Partiamo oggi, abbiamo una interlocuzione aperta con Sinistra Italiana e Verdi che legittimamente hanno chiesto di avere più tempo, alcune settimane di tempo per sviluppare le loro riflessioni interne anche rispetto alle prossime regionali ed è un punto di vista che io rispetto profondamente e assolutamente legittimo. La stessa cosa per Italia Viva. Oggi inizia un cammino e io mi auguro che questo percorso ci porterà a crescere ulteriormente. Il messaggero, torniamo sul giornale, ci ricorda anche qual è il quadro attualmente delle amministrative a Pescare con gli sfidanti in campo finora, cioè il sindaco uscente Carlo Masci, vedete qui appunto questo box con i tre sfidanti, Carlo Masci, Domenico Pettinari, ex Movimento 5 Stelle consigliere regionale uscente e adesso anche Carlo Costantini. Proseguiamo con le altre pagine. La cronaca, sempre da Pescara, evade dai domiciliari e rapina una gioielleria. Il bandito da Sagapò ha corso Umberto dove nel 90 da Ciletti fu ucciso. Lofeudo, il 35enne, è stato arrestato dalla polizia mentre tentava un colpo bis in via Raiale. Per quanto riguarda le indagini sull'omicidio di Via Gran Sasso del 4 gennaio, incidente probatorio, testimoni contro, Brahim Dabi nega di essere l'assassino, il colpo fatale sferrato forse da un connazionale della vittima che, lo ricorderete, è un bengalese. Ancora, l'invasione dei trattori agricoltori contro l'Unione Europea, radunate al COFA decine di mezzi agricoli, Pescara partecipa alla mobilitazione nazionale, le misure comunitarie, dicono gli agricoltori, stanno uccidendo quanto creato con la fatica dei nostri nonni. L'Aquila, a fondo del PD, riguardo al Gran Sasso, sui nuovi vincoli e sulla funivia, ma Pignatelli resta in sella. L'attacco dei Dem, 7 anni di nulla, promesse disattese e carrierismi politici. In consiglio comunale la maggioranza respinge la rimozione dell'amministratore del centro turistico del Gran Sasso. Poi ancora la giudiziaria, grave incidente sul lavoro, 6 persone sotto indagine. Un giovane di 23 anni sulla sedia a rotelle dopo l'improvviso crollo di un grande muro è stato trasportato, fu trasportato in occasione dell'incidente che avvenne nel maggio del 2022 nei pressi di Torninparte, fu trasportato in un magazzino per sviare gli accertamenti sull'accaduto e quindi adesso sono indagate 6 persone per questo episodio. Il ragazzo, anziché essere soccorso, è stato trasferito a bordo di un furgone, ovviamente con probabilmente ulteriori conseguenze sulla sua salute e sulla sua condizione fisica. Il dramma ad Avezzano, un compleanno tragico, muore durante la festa. Un malore fatale è ucciso un 48enne, a nulla sono valsi i tentativi di soccorso. Comunità sotto shock, l'uomo era amato anche per l'impegno assiduo nel sociale. Nella foto appunto l'immagine e il ritratto della vittima, Agostino Dania. Per quanto riguarda Chieti, mense, l'attesa infinita, iscrizioni riaperte, ma non c'è una data. Dopo due false partenze, dal comune ancora nessuna certezza per le famiglie. Cinque imprese hanno risposto al bando per l'assegnazione temporanea del servizio. Ne parlavamo prima. Si cerca di attivarlo prima della fine dell'anno scolastico. Svolta a Lanciano Fiera, una donna presidente, il sindaco nomina Ombretta Mercurio, a capo del CDA. Dopo l'uscita di Campli, agronomo docente all'agrario di Scerni, ha idee chiare sulle iniziative da assumere. A proposito di donne, anche in procura a Lanciano, preponderanza di magistrati donne. La procura si tinge di rosa con l'arrivo delle nuove PM greco e belvederesi. Eccoci sulle notizie di Teramo. Zona 30, in Italia se ne sta parlando molto per le polemiche esplose a Bologna, dopo l'estensione a gran parte del centro ed è anche di qualche area limitrofa della zona 30. A Teramo ci sono alcune strade in cui c'è il limite orario a 30 all'ora, ad esempio circonvallazione Spalato. I residenti dicono è una giungla, su circonvallazione Spalato pedoni in pericolo. La FIAB, che è la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, dice siamo ultimi in Europa per la sicurezza. L'assessore Filippoli interviene e dice in centro è presente la ZTL con il PUM Stazioni davanti alle scuole. L'addio al professor Walter Di Mattia, il ricordo del messaggero per lo storico tecnico di ginnastica artistica, fondatore di palestre e società sportive. Nel taglio basso invece in tribunale ieri l'insediamento di 5 nuovi giudici, 2 al penale e 3 al civile, ma il presidente Calvaresi rilancia sulla pianta organica, manca ancora il dirigente amministrativo. Nella pagina seguente siamo a Giulia Nova, pittrice uccisa, il marito è malato e chiede liberatemi per Giuseppe Santoleri, la sua avvocata ha chiesto il trasferimento. In casa di cura, in carcere a Pescara, anche il figlio Simone, i due condannati per il delitto Rapposelli. Le sentenze sono definitive, la donna di 64 anni fu uccisa perché chiedeva soldi. E poi la morte della donna di 82 anni a Silvi ieri mattina, travolta da un'auto mentre attraversava la strada, è morta poi in ospedale a Teramo nel pomeriggio. Travolgerla con l'auto è stata un'altra donna, una 67enne di Pineto, in rilievi effettuati dai vigili urbani. Chiudiamo con qualche titolo dalla pagina sportiva, un Pescara concreto per risalire la china, parliamo di Serie C. La squadra che è tornata a vincere forse non avrà soddisfatto il suo condottiero, Zeman, adesso servirà a dare continuità all'acuto di Arezzo nelle prossime due gare in casa. Il risvolto della medaglia per le abruzzesi è il brutto momento del Pineto, ora due trasferte per fare il risultato. La squadra riprende la preparazione oggi pomeriggio in attesa dello scontro diretto col Rimini. Per la Serie D l'Aquila ha perso la Cattiverri, il consigliere Di Giovanni, una delle nostre più brutte partite da quando sono in città, detto, dice in questo articolo Salvatore Di Giovanni, ho visto veramente poche occasioni. Per quanto riguarda invece l'Avezzano parla il patron Pecorelli e dichiarando l'Avezzano è una meravigliosa incompiuta, voglio chiudere con le due contendenti per il campionato di eccellenza. Teramo, reduce dall'1-1 di Pescara contro la Delfino Flacco, la Folgore Delfino Curri Pescara. Ci aspettavamo una battaglia così è stato, secondo il ventenne Cutilli, mentre Giulianova che ha travolto il Fossacesia, secondo Pagliaccetti, si è visto un buon spirito di gruppo per il mister Giallorosso. Poco a poco viene fuori la squadra che vorrei, sono sei, lo ricordo, in questo momento, i punti di distacco tra la capolista Teramo e l'inseguitrice Giulianova. È tutto per la rassegna stampa, possiamo fermarci qui. Appuntamento alle 8 con Ferruccio Benvenuti da Pescara-Formattino, alle 9 invece da Teramo-Doratea-Mazzetta per a colazione di prima mattina torna domani alle 7. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.